Ops a tutti, miei cari Upsini e Upsine, come state? Oggi sono qui solo per voi, per registrare questo nuovissimo video di PEN NOMS, avevo già fatto tempo fa un video così, però mi era piaciuto farlo, quindi ho detto perché non lo riportiamo e ho ripreso un tratto PEN perché secondo me hanno la forma perfetta. Quindi, mi raccomando, indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene, quindi posso cominciare? No, 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 no. no 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 una cosa che c'è di diverso dal vecchio video è l'inquadratura perché adesso ho zoomato molto di più avrei voluto che mi tagliasse anche un pochino gli occhi però si vedono ma non fa niente dai è un pochino 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 un pochino YUDETE YOKI MIRACUMONDO YUDETE YOKI MIRACUMONDO YUDETE YOKI MIRACUMONDO Sì 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 no Sì no grazie a tutti no Sì no 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 chiudiamo grazie a tutti no a tutti no 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info no no coucou penso proprio sia giunto il momento di concludere questo video quindi adesso tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community e se siete dei maschietti diventare i miei UPSini mentre se siete delle femminucce diventare le mie UPSine, va bene? poi mi raccomando lasciate un bel mi piace qua sotto se questo video vi è piaciuto e commentate con tutto, tutto quello che vi passa per la testa, va bene? ricordatevi che il mio canale è un posto sicuro quindi non abbiate paura a scrivere, va bene? quindi il video di oggi purtroppo finisce qui ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qua sullo schermo il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video che vogliate, va bene? quindi buonanotte buonanotte un bacio e noi ci vediamo al prossimo video, va bene?